Gli amici di Cuore Digitale mi hanno raccontato con entusiasmo che siete più di 500 studenti da varie scuole ad aver aderito al progetto BulliNo, organizzato da Cuore Digitale in collaborazione con il Krav Maga. Ci tenevo a dirvi ad ognuno di voi che esistono dei modi efficaci per evitare il bullismo e tra questi vi è sicuramente lo sport, che è un ottimo antidoto. Aiuta a crescere in modo sano e forte, permettendo di diventare persone adulte consapevoli e meno sole. Sostengo con convinzione Cuore Digitale che non si ferma mai. Mando un grosso in bocca al lupo a tutti voi, un abbraccio di cuore da Alessandro Florenzi.